Quello che è importante quando noi andiamo a creare dei denti così sofisticati è andare a lavorare con dei sistemi ingrandenti come questi che ci permettono di fare i lavori molto precisi. Io non so qua se magari ora provi a avvicinare con la camera, se riesci a vedere, è un po' difficile perché sono delle lenti particolari queste, che tipo di ingrandimento noi possiamo ottenere. È fondamentale con lavori così sofisticati andare a poter vedere i minimi dettagli di quello che stiamo realizzando. Più precisi noi siamo e più è alto il livello di precisione che noi possiamo ottenere grazie a questi macchinari e maggiore poi è la durata del lavoro nel tempo. Sicuramente lavorare in maniera approssimativa su qualcosa di così piccolo, costoso, sono praticamente dei gioielli questi piccoli e costosi. Delle volte a occhio nudo noi non riusciamo a percepire quelli che sono i particolari come per esempio la texture di superficie. In questo caso apparecchi come questo ci aiutano tantissimo a creare quello che è avvicinarci alla natura e quindi creare l'iperrealismo dei manuffati che andiamo a creare. Io ti faccio un saluto qua dalla Moldavia, seguici perché questi mesi ti farò vedere tanti di questi gingilli.